Abbiamo già ribalito e ci siamo sempre fatti molto piacere, sentito anche questo pensiero da parte di tutti i miei figli, un mondo che è sicuramente ragionato. Anche perché se lo sport in questa maniera lo voglio andare in su? Praticamente lo hanno implementato quindi chiaramente non può scappare. Quindi volevo chiedi questo.